Guardate qua, questo è un tweet pubblicato da Melania Trump sul suo profilo Twitter ufficiale. Melania Trump è la moglie di Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America. In questo tweet Melania augura buon anniversario a Satoshi Nakamoto dicendo che ieri era il tredicesimo anniversario del Genesis Block di Bitcoin, ma non solo, cita anche il Genesis Block di Bitcoin perché questo è ciò che ha scritto Satoshi Nakamoto sul primo blocco minato della blockchain di Bitcoin, per l'appunto il Genesis Block, con il famoso titolo del Times del 3 gennaio 2009. Vi ricorderete però quante volte l'ex presidente Trump ha twittato contro Bitcoin definendolo quasi una truffa, addirittura offendendo coloro che in qualche modo sostengono Bitcoin. Ma allora che senso ha questo tweet della moglie di Trump? Ebbene così come c'è scritto in questo articolo del Cryptonomist di cui vi metto il link in descrizione, a dicembre Melania Trump lanciò i suoi NFT e qualche giorno dopo, così come dissi in questo altro articolo sul Cryptonomist, lo stesso Trump disse che continuava a ritenere le criptovalute pericolose, ma in qualche modo augurava alla moglie di avere risultati con questi NFT dicendo che erano una buona idea e che questa idea della moglie avrebbe avuto successo. Ora però, sostenere che gli NFT siano una buona idea significa anche sostenere che le criptovalute siano una buona idea. E visto che Bitcoin è la prima e più importante criptovaluta che sia mai stata creata, di fatto chi è a favore degli NFT inevitabilmente poi deve per forza finire per essere anche a favore di Bitcoin. Quindi in questo momento sembra davvero che a causa del progetto della moglie, cioè di Melania Trump, anche Donald Trump stia diventando sempre più favorevole alle criptovalute o nello specifico a Bitcoin. Tra l'altro faccio notare che il presidente di El Salvador qualche giorno fa ha tweetato ipotizzando che durante le elezioni del 2022 negli Stati Uniti d'America, l'elezione di mid-term in cui si rinnova una parte del Parlamento, Bitcoin diventerà una questione importante di battuta. Quindi è davvero possibile che quest'anno negli Stati Uniti d'America Bitcoin entrerà a far parte, insieme alle criptovalute, della discussione politica in merito in particolare alle elezioni di mid-term. D'altro, come dico in quest'altro mio video del canale di notizie dedicato alla politica, vi metto il link in descrizione e qua in alto a destra, pare che la campagna elettorale sia già iniziata perché iniziano ad uscire delle notizie che riguardano sia Trump sia i candidati democratici e repubblicani. Tra l'altro, uno dei più importanti esponenti del settore del cripto al mondo, Brock Pierce, che è direttore della Bitcoin Foundation, si è proprio candidato al Senato durante queste elezioni di mid-term. Quindi è molto probabile che nel 2022 negli Stati Uniti d'America si parlerà molto di Bitcoin e criptovalute in relazione alla campagna elettorale che terminerà con il voto di novembre. Capite che in questo contesto il tweet di Melania Trump ha perfettamente senso, ma a mio parere suggerisce anche che l'ex presidente Trump difficilmente potrà continuare a sostenere la sua campagna contro Bitcoin. Potrebbe cambiare idea. Io ovviamente vi terro aggiornati e colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi anche al mio quarto canale YouTube, questo TGMC Politica, in cui racconto notizie che hanno a che fare con la politica italiana ed estera. Vi metto il link in descrizione. Un saluto. Ciao.